cecilia festeggiato l'addio all'annubilato ed è tornata con tanti souvenir e ignazio se la ride scusate sono solo i residui ti sembri normale che cosa ha combinato la mamma ma era proprio il leitmotiv delle giornate è finita la pacchia tornata la mamma i souvenir sono davvero belli voi che cosa ne pensate si saranno divertite secondo me tantissimo